Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, mercoledì 9 giugno 2021. A tenere banco è ancora la curva epidemiologica, sempre in calo, in calo i contagi, in calo anche i ricoveri negli ospedali. Ma non è solo l'unico titolo che ritroviamo sui giornali, andiamo subito sul Corriere della Sera che si concentra sul ritiro delle forze armate italiane dall'Afghanistan. L'Italia si ritira dopo 20 anni, la missione è finita, ha mai nato il tricolore. L'Italia ha finito la sua missione in Afghanistan. Dopo 20 anni viene mai nato il tricolore Aherat. Le nostre forze erano state inviate nel martoriato paese all'indomani degli attentati di Al-Qaeda negli Stati Uniti. E poi c'è anche il dossier, ma il paese non è rinato. C'è anche ovviamente spazio per la ripresa economica dopo la pandemia. Attenzione sui licenziamenti, proroga del blocco, maggioranza divisa. Draghi, a sorpresa, riceve Landini. Il Premier è pronto alla mediazione in Parlamento fisco. I partiti concordi ridurre le tasse al ceto medio. Leggiamo questo richiamo. I licenziamenti dividono la maggioranza di governo, nodo della discussione e l'eventuale proroga del blocco. Ma anche il sindacato è spaccato. Il Premier Draghi è pronto a mediare e riceve Landini, il leader della CGL. Il paradosso dei contratti, le assunzioni a tempo, ne parla poi Daniele Manca. E a proposito delle indagini giudiziarie, c'è questa vicenda che riguarda Taranto, ma che ha coinvolto Amara, l'avvocato che sta facendo tremare il Consiglio Superiore della Magistratura, accordi e favori sull'ex ILVA, arrestato il legale Amara, favori e mazzette nelle indagini sull'ex ILVA, arrestato l'avvocato Amara, la gola profonda che di recente ha fatto tremare la politica, il Consiglio Superiore della Magistratura e obbligo di dimora per l'ex procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, già arrestato per concussione, indaga la procura di potenza. E c'è anche l'editoriale di Maurizio Ferrera, non è l'ora di prediche tedesche, debito e crescita. Sin dagli anni 90, Wolgan Schoble, l'ex ministro delle finanze tedesco e ora presidente del Bundestag, è stato una delle figure chiave dell'unione economica monetaria. E dunque è opportuno prendere sul serio il recente intervento sul Financial Time, in cui Schoble ha ribadito la sua visione dell'UEM. Pur riconoscendo l'eccezionalità della situazione, l'ex ministro ha ammonito i Paesi membri, in particolare l'Italia, a mantenere la disciplina fiscale e a ridurre il debito. Se ciò non avverrà, avremo bisogno di una istituzione europea che non solo controlli il rispetto delle regole di bilancio, ma abbia il potere di applicarle. Una nuova fase di austerità rafforzata, insomma. Il richiamo alla responsabilità è legittimo e l'Italia non può offendersi i dati suoi trascorsi. È però lecito sollevare alcune perplessità circa le premesse del ragionamento. L'assunto di Schoble è che se l'Unione Europea crea schemi di solidarietà finanziaria fra i Paesi, i governi saranno incentivati a contrarre debiti a spese dell'Unione. Per Schoble, l'azzardo morale è una specie di male assoluto, una posizione che riflette non solo la sfiducia verso i peccatori ostinati del deficit, ma soprattutto l'adesione alla dottrina ordo-liberale e ai suoi pregiudizi negativi nei confronti della politica democratica e del welfare state. Il concetto di azzardo morale proviene dalla economia delle assicurazioni, poi il resto dell'editoriale nelle pagine interne del Corriere della Sera. Ma passiamo alla Repubblica, che titola Alla Ripresa, servono 500.000 lavoratori. Riparte il lavoro ma le aziende faticano a trovare i profili richiesti. Addetti al turismo, informatici, ingegneri, saldatori. Salari bassi, reddito di cittadinanza, politiche attive insufficienti impediscono al mercato di incrociare domanda e offerta. Via libera intanto dall'Unione Europea al Green Pass. Scuola, lezioni, anche d'estate. Leggiamo il richiamo che riassume tutta questa vicenda. Riparte il lavoro. Per Union Camera a giugno ci saranno 560.000 nuovi contratti, meglio di due anni fa prima della pandemia. E a fine agosto si arriverà a 1.300.000 contratti di lavoro. Eppure le aziende hanno difficoltà a trovare lavoratori via libera dell'Europa al Green Pass, il certificato che consentirà di viaggiare tra i paesi dell'Unione a scuola, lezioni, anche d'estate. E poi la vicenda della cronaca giudiziaria di cui abbiamo già parlato, la mano di Amara sull'Ilva e il Consiglio Superiore della Magistratura per scegliere il procuratore di Taranto, arrestato l'avvocato della loggia Ungheria. E poi c'è anche la pagina politica con la protesta dei sindaci che parlano di mestiere impossibile. Una volta fare il sindaco era l'ambito trampolino di lancio per una carriera politica prestigiosa. È stata così per Veltroni, Rutelli, Renzi, ma anche Bassolino e Bianco. Oggi invece si finisce indagati anche perché una bambina si schiaccia le dita con una porta che si chiude all'interno di un asilo. Cybersecurity, nasce l'agenzia, si chiamerà ACN. Il nome è stato scelto e lo sentiremo pronunciare prima del previsto. Si chiama Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale e già domani il decreto legge potrebbe finire sul tavolo del Consiglio dei Ministri. E poi vedete il momento atteso 20 anni, missione finita, ma non vi abbandoniamo. L'Afghanistan ha mai nato il tricolore italiano. Lettera degli studenti, teniamo le classi sempre aperte. Paolo Di Paolo scrive Dici che è l'ultimo giorno di scuola, lo chiami così, ma non è l'ultimo, non è mai l'ultimo, nemmeno per chi suppone di archivare per sempre zaino e quaderni. Dici ultimo giorno di scuola e la liturgia liberatoria va onorato, come è giusto che sia. E ancora la stampa, il quotidiano di Torino, che titola Orlando, tutele universali, a luglio il via alla riforma. Intervista al Ministro del Lavoro. A Salvini dico, ora basta tatticismi. I sindacati tra un mese e 500 mila a rischio. Draghi, incontro segreto con CGL, CISL e Will. Leggiamo Niccolò Carratelli. Sul blocco dei licenziamenti la partita non è stata persa. Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, torna sullo scontro di cui è stato protagonista all'interno della maggioranza e avverte il leader della Lega, Matteo Salvini, non bisogna fare tattica politica sulla vita delle persone. E il covid della scienza, ci serve cautela sulla terza dose, scrive Antonella Viola. La polemica, scusa demografica e scuola più povera. Poi c'è l'inchiesta, Saman uccisa perché non era più musulmana. Emergono ulteriori particolari da questa drammatica inchiesta. Poi c'è l'intervento di Paolo Gentiloni, il commissario europeo, la global tax sfida di civiltà. Le crisi spesso aprono la strada di importanti riforme. Gli accordi che disciplinano il sistema monetario e il commercio internazionale furono raggiunti sulla scia della Seconda Guerra Mondiale. Le caratteristiche del sistema di tassazione sulle società risalgono a un secolo fa. Il post-covid crea una grande occasione per la riforma, scrive proprio Paolo Gentiloni. E intanto Biden e la Cina svolta italiana verso il G7, scrive Lucio Caracciolo. Joe Biden piomba in Europa per riallineare gli alleati europei e far loro capire che fra Cina e Stati Uniti non c'è spazio in mezzo. Venerdì trasmetterà questo messaggio nel G7 in Cornovaglia per poi ripeterlo nei giorni successivi durante la sua prima tournée vetro-continentale. E ancora la fotografia centropagina via dall'Afghanistan, così si ammaina il tricolore. Il momento dell'addio è arrivato, i soldati occidentali lasciano l'Afghanistan, anche gli italiani ammainano la bandiera dopo vent'anni di ininterrotta missione. Oltre 50 morti, alcuni miliardi di euro spesi. Le forze armate hanno mandato nel tempo 50.000 tra uomini e donne in divisa. E passiamo all'avvenire. Il giornale dei vescovi italiani che parlano di Cercando un patto. Draghi alla ricerca di una mediazione alta sul blocco dei licenziamenti già sondate. CGL Cisle Will possibile un decreto per la sospensione selettiva. A giorni un tavolo unitario anche per Confindustria, per evitare le tensioni politiche e sociali. Leggiamo allora anche qui il richiamo. Il dossier sui licenziamenti si riapre e passa a Palazzo Chigi. Il premier Draghi incontra il segretario CGL Landini dopo aver avuto colloqui con gli altri leader confederali, sbarra e bombardieri. C'è una preoccupazione per le possibili tensioni sociali conseguenti ad un rimbalzo economico disomogeneo che potrebbe lasciare indietro i lavoratori che più hanno pagato e patito la crisi da Covid. Si sonda quindi la possibilità di un patto sociale con sindacati e Confindustria che comprenda anche una nuova proroga selettiva condivisa del blocco dei licenziamenti. Le ipotesi per individuare i settori deboli, i codici ATECO o le ore di cassa integrazione guadagni utilizzate in pandemia. E poi c'è l'analisi di Union Camera che avverte, attenzione, i posti di lavoro, le offerte ora crescono. A giugno riparte la domanda di lavoro. Sono oltre 560 mila le opportunità offerte dalle imprese. Se si guarda ad un orizzonte temporale più ampio si arriva a 1.300.000 proposte di lavoro nel trimestre giugno-agosto. Sono molto incoraggianti i dati del bollettino mensile del sistema informativo Excelsior realizzato da Union Camera e ANPAL. E poi c'è, a proposito dei Vescovi, il messaggio per la giornata del creato. Una nuova ecologia ma cambiando stile. Nel messaggio della CEI per la giornata nazionale per la custodia del creato in programma il prossimo 1 settembre, l'esigenza di un diverso modello di sviluppo. La transizione ecologica presuppone un nuovo patto sociale. E poi leggiamo a proposito della lotta alla pandemia. Sì, europeo al Green Pass. Il garante, attenzione, soltanto con scadenza. Mattarella, grazie, ricerca, ma c'è un paese di Novax ancora da convincere. C'è il via libera del Parlamento europeo al Green Pass, il certificato digitale che dovrebbe permettere i viaggi e gli spostamenti in Europa. Intanto il garante per il trattamento dei dati personali che alcune settimane fa aveva stoppato il pass della campagna avverte. Sarà a termine utilizzato solo per l'emergenza pandemica. Intanto il presidente Mattarella, ieri in visita a Milano, ha ricordato che non abbiamo ancora raggiunto il traguardo per l'uscita dalla pandemia. Nelle ultime 24 ore risalgono i decessi. Sono stati 102. Responsabilità penali su tutto. La rivolta dei sindaci dopo il caso Crema. Un bimbo si schiaccia la mano nella porta dell'asilo comunale di Crema e la sindaca della città finisce indagata per lesioni colpose. Rivolta dei primi cittadini. Indagateci tutti. E ancora, leggiamo un passaggio dell'editoriale dell'Avvenire. La risposta migliore dopo pandemia, debito e benvivere, scrive Leonardo Becchetti. I commissari Dombronschi e Gentiloni hanno dunque annunciato che il patto di stabilità europeo resterà sospeso per tutto il 2022 e sarà ripristinato con regole diverse nel 2023. Su quello che accadrà allora e sulle nuove regole macroeconomiche che saranno in vigore si giocherà molto del nostro futuro economico. Da questo punto di vista sarebbe veramente un delitto non mettere a frutto la lezione della pandemia. Sappiamo che un debito pubblico è sostenibile quando sui mercati finanziari la domanda di titoli riesce a compensare l'offerta mantenendo bassi tassi di interesse e servizio del debito. Il paradosso della pandemia è che nonostante i rapporti debito-pil dei paesi ad alto reddito, Unione Europea e non europea, siano aumentati di 20-30 punti percentuali, i tassi di interesse sono rimasti fermi o addirittura calati e così l'incubo dell'esplosione dello spread non si è realizzato. La risposta molto semplice all'enigma sta nel rafforzato protagonismo delle banche centrali che con i loro piani di acquisto dei titoli pubblici detengono oggi circa un quarto del debito dei paesi membri. L'obiettivo di detenere stabilmente questa quota, addirittura rafforzarla, restituendo i proventi da interesse, ha tranquillizzato i mercati. Ergo i debiti pubblici dei paesi ad alto reddito sono sostenibili se le banche centrali manterranno questo impegno e dopo questa spiegazione preliminare si entra poi nel vivo dell'intervento dell'editoriale dell'avvenire. E passiamo al sole 24 ore, il giornale di Confindustria che invece titola Domanda Boom per i buoni di BTP a 10 anni, i titoli di Stato. Il tesoro tira dritto, nonostante i timori di mercato, su possibili aumenti dei tassi e allentamento del sostegno delle banche centrali sui titoli pubblici. Domani, occhi puntati sulla riunione della Banca Centrale europea. Piazzato ieri un BTP decennale per 10 miliardi attraverso un collocamento sindacato con un boom di richieste per oltre 65 miliardi. I titoli hanno scadenza a dicembre 2031 e un rendimento lordo dello 0,96%, 6 punti base in più rispetto all'attuale benchmark. E ancora RFI, le ferrovie italiane, potenzia la linea del Brennero. Ponte record sul Brenta. Leggiamo. Il potenziamento dell'asse ferroviario Verona-Monaco compie un passo significativo verso il suo compimento. È stata aggiudicata infatti da Rete Ferroviaria Italiana. La gara dà 1,16 miliardi di lavori per quadruplicare la linea Fortezza-Ponte Gardena. L'opera consentirà di ridurre i tempi di viaggio. Novità in vista anche per le ferrovie regionali Venete. Regione Veneto e RFI hanno firmato un'intesa per il raddoppio della Padova-Vigo d'Arzere. RFI costruirà il nuovo ponte sul Brenta che con i suoi 100 metri diventerà il ponte esclusivamente ferroviario a Campata Unica più lungo d'Italia. Una vicenda che ha fatto insorgere i rappresentanti dell'Italia meridionale che invece dicono per un ponte nel nord del paese si spendono questi importi. Ne basterebbero forse un decimo per costruire il ponte sullo stretto di Messina che invece latita anche nel recovery plane. E passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale della Puglia e Basilicata, il giornale di ambito territoriale che ha le sue solite due aperture. Da Bruxelles primi sì ai piani di ripartenza. L'Italia potrebbe incassare a breve 25 miliardi di euro. Vaccini, corsa dei giovani, Puglia, 17 morti, Mattarella, non siamo ancora al traguardo. E poi invece la vicenda giudiziaria di cui abbiamo già parlato. L'ex ILVA, una amara verità. L'ex procuratore Capristo avrebbe inquinato le indagini sul siderurgico dopo le pressioni sul CSM esercitato dall'avvocato per farlo promuovere, spostandolo da Trani a Taranto. Arrestato illegale dei misteri, rete di rapporti del poliziotto Paradiso, da Palamara ai vertici del Parlamento. Leggiamolo da questo richiamo. L'avvocato siciliano Pietro Amara avrebbe ottenuto favori e incarichi tramite l'ex procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, che in cambio di aiuto per la nomina avrebbe interferito con l'inchiesta sull'ILVA. E' il tema della nuova inchiesta di potenza che ha portato Amara in carcere e ha fatto scattare l'obbligo di dimora a Bari per Capristo. Altri tre arresti. E poi tre richiami. L'ordine IPM, gli alti forni, non si spengono. Undici indagati, ci sono altri due ex magistrati. Nell'inchiesta anche il caso di due operai morti. Ma non è l'unico caso di cronaca giudiziaria che scuote la Puglia. Ce n'è un altro che riguarda Molfetta. Bufera a Molfetta, le mani sulla città, sedici arresti tra politici e imprenditori, indagato anche il sindaco Minervini. Lo scandalo, turbativa d'asta, mazzette in cambio di appalti e depistaggi. In carcere l'ex assessore ed ex consigliera. C'è anche il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Trani, che ha portato all'arresto di 16 persone, 10 in carcere e 6 agli arresti domiciliari. Minervini, accusato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, non è tra i destinatari della misura cautelare. Complessivamente gli indagati sono 41, dei quali 34 sono persone fisiche e 7 società. I reati contestati a vario titolo sono turbativa d'asta, corruzione, falso, depistaggio e peculato. E passiamo al messaggero, il giornale della Capitale, che vedete fa anche un piccolo richiamo alla fumata bianca nel rapporto tra Lazio e Sarri. C'è la firma dell'allenatore con un biennale da 3 milioni a stagione più bonus e ha chiesto già il primo calciatore da acquistare. Tornando invece sugli argomenti di cronaca, sindaci sul piede di guerra, lavoriamo e ci indagano. La prima cittadina di Crema sotto inchiesta per l'incidente banale in un asilo scatta la protesta dei colleghi, tutti con lei in tribunale. Gelmini, il ministro, si cambi la legge. Poi ci sono due approfondimenti. L'imposta sugli immobili, sfratti, corsa contro il tempo per togliere l'imu ai proprietari. Capitale in ginocchio per un'acquazione, Roma e i rifiuti galleggianti. Torna la disastrosa normalità, Ernesto Menicucci. Basta un nubrifragio. A Roma, con i primi segnali di normalità, tornano i disastri, allagamenti e forti disagi. E poi vedete a centropagina la fotografia, due fotografie che hanno fatto in pochissimo tempo il giro del mondo. Il blitz di due ultra della destra Marine Le Pen è inaccettabile. Macron e gli schiaffi dagli estremisti. Il presidente francese Macron colpito da uno schiaffo mentre saluta la folla. Poi sono stati arrestati gli autori di questo gesto di protesta. Intanto, tornando in Italia, bullismo a scuola. Via i telefonini durante le elezioni. Oggi in Parlamento le raccomandazioni della Commissione Istruzione del Senato. Leggiamo un richiamo. Quasi un terzo del tempo che i ragazzi passano in aula è utilizzato per lo smartphone, mentre il professore spiega o interroga un compagno. Per non parlare del bullismo digitale che viene perpetrato proprio in quei frangenti. È emerso dall'indagine sull'impatto del digitale sugli studenti della Commissione Istruzione del Senato. L'obiettivo? via i telefonini durante le lezioni. Passiamo al mattino. Il giornale di Napoli e della Campania che titola Vaccini. La corsa dei giovani in la Campania. Prima in Italia. Dosi al 26% degli under 30. L'immunità di greggia è prevista per agosto. I medici di famiglia contro gli open day. La sfida per gli 80 euro all'ora. E ancora De Magistris chiama PD e 5 Stelle. Patto sul Napoli e la Calabria. Si parla ovviamente delle amministrative di autunno. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, apre al centro-sinistra in vista della sua candidatura a governatore della Calabria. PD, Movimento 5 Stelle, dice il primo cittadino al mattino, in Calabria pronto ad un laboratorio. E aggiunge, intesa anche su Napoli, dialoghiamo. E a proposito dei sindaci, noi indagati per lavorare. L'ira dei sindaci. Crema nei guai. Il primo cittadino per un'unghia rotta all'asilo nido. E poi vedete a centropagina queste due straordinarie fotografie. Riecco la meraviglia dell'acquario. Napoli ritrova lo scrigno del mare. E chiudiamo con l'altra voce dell'Italia. Il quotidiano del sud, che si occupa di Calabria e del mezzogiorno. I quattro assi di draghi, scrive Roberto Napoletano. Il nuovo assestamento di bilancio e il sano accentramento. Primo, crescita verso il 5% trainata da consumi e produzione perché la campagna di vaccinazione ha funzionato. Secondo, si percepisce che questo paese vuole ripartire passando da un rimbalzo congiunturale ad una crescita sostenuta di lungo termine con la medicina delle riforme approvate a tempo di record. Una macchina pubblica per gli investimenti. Terzo, una inflazione buona da consumi che fa bene anche al debito. Quarto, le regioni non contano più nulla. Il Parlamento conta ma segue, si rivede, la regia dello Stato. E chiudiamo con gli ultimi due titoli. Nord-Sud, le profonde disuguaglianze resistono in spregio alla Costituzione, Europa e Governo contro anni di abbandono. E chiudiamo con A.V. Salerno-Reggio Calabria. L'autostrada Salerno-Reggio Calabria, 22,8 miliardi per 445 chilometri divisi in sette lotti. La D di RFI, primi progetti pronti entro l'anno. Ed era questo l'ultimo titolo del quale ci occupiamo in questa rassegna stampa. Rassegna stampa che torna domani, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.